Roma è stata a casa mia. Vuoi ripete? Che qui sta, ma Roma è stata a casa mia. E mbe? Che devo fare? Non ti azzerdà, sa. Non ti azzerdà, va in cucina e fammi la magna che c'ho fatto. Ah, chi? Io ho fatto la donna, bovita da casa, ho fatto l'aeroporto, ma non cucino nemmeno così vannazzate. Prima di un po' che hai detto? Io non cucino nemmeno così vannazzate. Che devo fare? Vanno a cucinare. Vanno a cucinare? Non ti azzerdà più, sa. Quella roba lì, la mangi lì, va bene? E io non me la voglio mangiare, mbe? E mbe? Dai. Dai, siediti. Dai. Dai, così. Dai. Ecco. Dai, magna. E devi dire pure che è buono, vabbè? Com'è? Com'è? È buono. Ecco. Ecco. Ancora. Com'è? È buono. Come ti permetti di controllarmi, eh? Come ti permetti? A una mujer non se le pega ne con una flor, sabe? Ah, cosa, ha pedrito? Vattela in cucina, sennò ti viene pure attesa. No? Pensa che per lui ho lasciato il centro attacco della brava e uccelli. Che t'ha fatto nella tua? Ma ostante, zitta lei, perché sennò ti rimeno un'altra orta, eh? E mbe? E mbe? O sa lui il perché, ha capito? Vecchia zola che non sei altro. Che fai, Ventice, rimani qui e ci vedremo stasera, eh? No, torno in Italia dopo la vittoria. Dai, Juventus. E mbe? E mbe? Ciao, Ventice. Ciao, Ispettuto. Ciao. Ciao. Ditegli dove mi te lo portai, Ispettuto. Allo stadio, pallonem, pallonem. Forza Juve. Ciao, Ispettuto. Ciao, Ventice. Ciao. Juve, 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 Juve.